Una campa elettorale vera tra le persone, tra le associazioni, nelle imprese, nell'ascoltare i bisogni, raccontare ciò che è stato fatto e fare anche un'analisi su quello che si può fare in futuro, tante risposte che questo paese attende e anche questo territorio. Il punto più importante è il lavoro, il lavoro per i giovani, il lavoro per le persone che in questi anni, a causa anche di alcuni settori maturi, hanno perso unità avanzata alla loro occupazione. Una cosa importante che è immersa è la necessità delle imprese di assumere alcune figure professionali, la sfida del futuro sarà mettere insieme il sistema scuola-lavoro e diminuire il costo del lavoro.